Nata dell'edizione 2020 della Trapani Arabian Horse Cup e bentrovati invece chi ieri ha trascorso il tuo tempo con noi ad ammirare alcuni degli esemplari in gara oggi completeremo con altre categorie infatti così come ieri gli esemplari sono suddivisi in categorie giudicati per tipo, testa e collo, dorso e armonia, arti e movimento ringraziando tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione diamo inizio alla edizione 2020 della Trapani Arabian Horse Cup il presidente dell'associazione Nuovo Gruppo Equestre Monterice Nino Culcasi, seguito dai giudici di questa edizione 2020 il presidente Nino Culcasi, seguito dai giudici dalla Russia, Miss Irina Stagler dalla Polonia, Mr. Thomas Tanzischi e dall'Italia, Mr. Fausto Scansi Nel ringraziare i giudici e augurandogli buon lavoro per questa sessione odierna vi ricordo che la prima classe che andiamo ad ammirare a giudicare è la classe 9 Stalloni di 4, 5, 6 anni 2016, 2015 e 2014